Allora Cortina, un ritorno qui a Latina con un successo per 3-0, dicevamo con Scrimov, successo che cambia poco in termini di classifica, ma sicuramente vi aiuta a presentarvi nel migliore dei modi nella seconda fase. Assolutamente sì, e anche a concludere una stagione con molti bassi e pochi alti, però questo acuto finale ci dà un po' di morale per affrontare le prossime partite di playoff per cercare di andare avanti in questa Challenge Cup. Vi aspettavate un Latina così spento? Sinceramente no, siamo stati un po' sorpresi, però era una partita che contava poco, era una partita dove chi aveva più voglia di mettersi in mostra e fare bene poteva spuntarla e siamo stati noi.